È stato condannato a otto anni e tre mesi Haith El Mokhtar per aver sfregiato il volto di un commerciante. Il fatto risale al 25 luglio scorso nella zona della Darsena a Viareggio. Mokhtar era entrato in un negozio di kebab a prendere due birre, allontanandosi senza pagare. Un'azione che aveva ripetuto anche in altre occasioni, ignorando la cassa. Il titolare di origine pakistana lo aveva seguito in strada per bloccarlo. Poi il 41enne marocchino aveva estratto un coltello con un'unica intenzione, sfregiare il volto del commerciante. Poi la fuga verso Torre del Lago, una sparizione durata un paio di mesi. Poi l'arresto di Mokhtar, che si trova dunque in carcere dal mese di settembre e ieri la sentenza di condanna a otto anni e tre mesi di reclusione.